Siamo già dall'altra parte, lo valuta il cross, lo lascia poi a Gosenz, alla morbida correa di testa, Ochoa! Aslani lo ignora e va in tangenziale da Dumfries, Fint, Dumfries cerca spazio, ora mette il cross morbido, Lukaku, Ochoa! Brozovic, Mkhitaryan, ancora Brozovic, Gagliardini corre, Dumfries, Gagliardini sceglie Brozovic, palla dentro Lukaku, Ochoa! Ha preso anche questa!